Sì ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Frank93 Sì, e oggi siamo di nuovo sul gioco dei Lego Junior Mettiamo, mettiamo, mettiamo oggi No, quando ragazzi, iscrivetevi e lasciate like No, mi sentiamo la testa Ma mettiamo, come sembra, questo qua Le ruote Ma quando ragazzi, lasciate like e iscrivetevi Se vi iscrivete, c'è una sorpresa, c'è una sorpresa Molto grande Ok ragazzi, già già in inglese Ma meno perché sto parlando di altre cose ragazzi Molte Molte Stop E le spede What Yeah, 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 yeah Chiediamo che cosa è una nuova bianza Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.